Weee! È da un po' che non ci sentiamo eh. Ieri non ho pubblicato nessun video perché è stata una giornata che vuota e dire bene e dire tanto. È stata molto peggio che vuota. L'unica cosa che ho ripreso in tutta la giornata è stata questa. Sono le 16.55 e ancora non ho filmato niente oggi, semplicemente perché non ho ancora fatto niente. È stato un sabato parecchio vuoto, dovevamo andare a filmare per relative ma ovviamente la fortuna che ci contraddistingue ha colpito ancora e piove da ieri sera. Quindi non siamo riusciti ad andare a filmare, per cui tutta la mia giornata diciamo è crollata perché dovevo fare quello e non lo dovevo più fare, quindi non sapevo che cazzo fare. Mi sono messo un po' a studiare e a nerdare ed è quello che sto facendo adesso. Non è domenica ma facciamo finta che lo sia. Netflix e... adesso non si vede... Oswego, come quando ero piccolo, che li mangiavo sempre, tocciati nel tè. Questa sì che è vita. Disculpe madre pormi via l'oca. Ci sono ragazzi della mia età che sono sempre fuori a socializzare, che vive avventure, che gira il mondo. Ma perché fare fatica e fare tutte queste cose quando puoi viverle allo stesso modo nelle serie televisive? Ci sono loro che lo fanno al posto nostro perché dobbiamo farlo noi. Come camperebbero i poveretti che lavorano nel mondo della televisione e del cinema? Se non ci fosse nessuno a guardare queste cose, io lo faccio per loro eh. Quindi capite che non avevo materiale per fare un video, ero veramente, veramente in coma. E sono in coma anche adesso, però mi sto avventurando ovviamente in ritardissimo verso i miei parenti perché andiamo a pranzo fuori. Dovevo essere lì a mezzogiorno e mezza e adesso mezzogiorno e cinquanta e sono ancora sotto casa. Mi porto dietro anche la videocamera per relative, dato che in teoria oggi dovevamo fare le riprese, però il tempo è quello che è, nel senso piove, come al solito. Se smette di piovere dopo il pranzo ci troviamo a fare le riprese, altrimenti Netflix. Insomma ragazzi adesso vado dai. Attenti, attenti. Oh ma guarda che c'è lì. Sono da solo in macchina perché nessuno ha voluto venire con me perché hanno paura di come guido. E quindi sono da solo, mentre gli altri sono tutti in macchina tutti insieme io sono da solo. Saluta i tuoi telespettatori, saluta, di ciao. Continuano a telefonarmi da tutte le parti. Ma chi? Ma è da Vicenza, tutti i miei parenti. E allora mia sorella, dai dì qua. E allora mia sorella mi dice, ma hai sempre la stessa camicia. Sempre la stessa camicia celeste. Dico ma... Cosa hai fatto i capelli? Cosa hai sempre i capelli lunghi? Questo è il posto dove stai andando a mangiare. Ciao Amanda. Ciao. Amanda ma ci arrivi al tavolo, riesci a mangiare? Sei un po' nana? Quello che non va nella mia famiglia è che ho solo sorelle e cugine, sono tutte femmine e mi è sempre venuto da pensare che fossi una femmina anche io. Vuoi rifare un video nella valigia Vittorio? No. Perché no? Traumatizzato? Non ti vuoi dare in barra. Ah vai in barra. Ginevra. Ginevra. Ma la corda è... Ginevra. Ah Ginevra, eh. Cotoletta alla bolognese. Una cotoletta coperta di formaggio e prosciutto. Top. Cos'hai preso? Il piatto del nonno. Il piatto del nonno. Vimbre. Sono signori tra il nonno e il piatto. Esatto. A un certo punto secondo me vi fondete se faccio così. Mangiato non benissimo però... Tanto. Sono a posto. Lascio la macchina qui e torno a casa rotolando. Ti odio, ti odio. Ma no che cattiva. Avete mangiato bene? Molto. Perché c'eri te? Ma sei cattivissima Amanda. Anche a sto giro nessuno è voluto salire in macchina con me. Sono da solo. Hanno paurissimo. Niente ragazzi, continua a piovere inesorabilmente. Io sono appena venuto via da casa dei miei zii dove ho preso un tè insieme a tutti gli altri familiari e sto tornando a casa sotto l'acqua. Sta piovendo sulla mia faccia e sta piovendo anche sulla faccia della telecamera. Quindi sulla vostra faccia di conseguenza. Riprese di Relative rimandate a speriamo domani. Metto via la telecamera ora se no l'acqua la uccide. Non so se vedete ma ho gli occhiali pieni di goccioline. Ogni volta che piove è sempre una rottura di pane. Dovrebbero inventare dei tergicristallo per gli occhiali. Che meglio asciughino perché non vedo un cazzo ogni volta. Vabbè ma ragazzi. Cioè. Non voglio uscire dalla macchina. Quanto sta piovendo. Non voglio uscire. Ma è indecente, è indecente. Ripresa molto hipster tumbler. Corri Nelson, corri. La pioggia, mi bagna. Non voglio. Nelson. Ci vuole di scorreggia. Cacca proprio. Sono venuto a casa di Federico perché stasera c'è la premiazione degli Oscar. La Oscar night. E quindi. E quindi dato che lui è a Sky venga a scroccare una cena e Sky. Il problema è che essendo dall'America fa orari assurdi. Tipo inizia alle nove, poi l'una e andrà avanti tutta la notte. Probabilmente guardiamo la sigla iniziale e poi andiamo a letto. Però ci proviamo. La speranza è l'ultimo a morire. Deve vincere Leo. Leonardo DiCaprio deve vincere. Vabbè che co. Guardi, Eric è morti. Guarda, cazzo, me li sono divorati. Ho quasi puttana finito la seconda stagione stommare. Troppo bello. Sei imbarazzante. Sei fiegata. Ehi, Nelson, un regalo per te. Eh, grazie. Suits, baby. Suits. Tanto abbiamo scoperto che gli Oscar iniziano una cosa tipo tre di notte, ma... Dettagli. Circa due ore fa abbiamo ordinato dei panini di pizza. Sono arrivati in questo momento. Evviva. Neanche io che sono il mago dei ritardatari sarei mai riuscito a fare un ritardo del genere. Questo è mio e questo è tu. Chi sei tu? Vai via! Dov'è Leo? Fede, dov'è Leo? Qui dicono che la premiazione di DiCaprio è tra otto ore. La vedo grigia. Contate che adesso sono le 22.53 e se è tra otto ore... È alle 5.50. Due conti. Mi sa che andiamo a letto e ci svegliamo dopo. Mi sa che è l'unica. È tempo di iniziare a montare questo video perché se spero di guardare gli Oscar e dopo montare vuol dire che non do il nostro atto. Per cui ci vediamo domani mattina dove parleremo della serata degli Oscar. Sì, riuscirò a guardarla tutta, cosa che non credo. Adesso non trovole. Ciao! Ciao!